Incompetenti, straruati, folla che mi seguite ormai da vent'anni, da trent'anni, è l'ora della grande discordia, è l'ora che noi ripetitiamo le nostre decisioni, non lo posso fare. Vattene, ce l'è un tuo cazzo, vattene. Lo so, ci sono pure ingiustizie sociali, ma non è questo che ormai il paese attende da voi. Il paese attende delle cose più comune, più vitali, più sindrome, più incavocchiate. Non lo trovo più, diventa questo. Sì, lo so. Vattene, va. Durante questi ultimi anni di impressione deve essere innaturale, dopo il saggio di Sassi. Mario, dove sei? Dopo il saggio di Sassi, è l'ora del saggio di Sassi. La figura di Sassi è un bambino, la cosa che se l'ha mai trovata a tutti. È un bambino. Si, la figura di Sassi è un bambino che non lo trovo più. Ho trovato un bambino. Ho trovato un bambino. Ho trovato un bambino! del cinema Capito fondato nel 1942 è vero, è vero alcuni a noi sono stati fatti ma possono essere immediati basta che arrivano a noi i libici siamo noi che facciamo la classe politica siamo noi che invidiamo il popolo andiamo a fare i vari interlocutori ho trovato un papino ah è sotto il giornale ma sono i nostri vari messaggi i tramite giornale che vi piacciono non sei un mariolo niente l'acqua verrà al monte con il monte mira l'acqua pane a pane vino a vino portene via ladro ladro sta strutturando la verità ben ricchi me lo faccio a me in sintesi l'unica cosa che a noi ci interessa sono i voti o li portate a me o li portate a lei ma non se ne parlare anche di riforme e di cose perché noi siamo qui e non ci muoviamo più eh sì oh come mi sento male noi siamo qui e rimarremo è schifo vuoi per un patto di sangue vuoi per un patto di ferranza vuoi 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 che vuoi 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 vanno a me al culo e a dare vanno 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 danno Io non dal tuo paese ladro quella luce Attenzione, il spaventano dell'autobus 47-105-1 si hanno arrombato tutta la verona